Ci troviamo a Isernia nel Molise e qui è stata fatta una scoperta fondamentale, è il più ricco e più importante paleosuolo scoperto in tutta Europa, la sua età è impressionante a 700 mila anni ed è in uno stato di conservazione eccellente. La sua scoperta è venuta in modo casuale e quando si realizzava questa superstrada nel 1978 e come spesso accade è stato un amatore Alberto Solinas a notare dei fossili che emergevano dallo sbancamento operato dalle ruspe. Tutto questo accadeva 25 anni fa e nel frattempo qui è sorto un importante centro europeo di ricerche preistoriche con dei laboratori, si sta ultimando un grosso museo, eppure a quasi un quarto di secolo di distanza si continua a scavare sul sito, perché? Perché Isernia rimane una specie di mistero, le scoperte realizzate fino ad oggi infatti pongono domande alle quali non esiste una risposta precisa. Ecco che cosa hanno scoperto i ricercatori, è un'enorme area di 300 metri quadrati che è letteralmente ricoperta, lastricata con ossa di animali preistorici, ossa che sono sovrapposte e ammassate in gran quantità. Ci sono zanne di elefanti, omeri, scapole, mandibole, poi ci sono anche crani di bisonti, di rinoceronti e persino resti di orsi, popotami e leoni. E sono stati poi anche ritrovati migliaia di strumenti in pietra dell'uomo preistorico. Pensate che tutto questo rappresenta solo un centesimo della superficie del sito, che ancora in gran parte è sepolto e che si estende per almeno altri 20 o 30 mila metri quadrati. Archeologi e paleontologi lavorano quasi quotidianamente su questo sito fin dal momento della scoperta. Antonella, su che cosa sta lavorando ora? Sto lavorando su un cranio di bisonte che è l'animale più attestato, più frequente e ne abbiamo trovati circa una sessantina. Senta, state usando degli strumenti da chirurgo, da dentista, è un lavoro lunghissimo, ci vuole una pazienza infinita. Sì, la quantità di materiale è enorme, per cui noi non raccogliamo che più di un secchio al giorno di sedimenti. Sedimenti. Senta ossa umane? Le sono già emerse? Al momento no, però il materiale è una buona conservazione. Noi ci auguriamo che ci sia ed è solo una questione di tempo. I reperti vengono scavati, restaurati e studiati in loco. Qui in effetti è tutto come un grande laboratorio aperto al pubblico. Torniamo all'enigma di Isernia. Come hanno fatto ad accumularsi decine e decine di migliaia di ossa di animali preistorici? Beh, non è un evento naturale, cioè non è un fiume che ha accumulato queste ossa, non è neanche una trappola naturale come per esempio delle sabbie mobili. Qui c'è la mano dell'uomo. Anzi, ci troviamo proprio su un accampamento di antichissimi cacciatori. Ora, per capire meglio le cose, bisogna ricostruire quest'ambiente come appariva 700.000 anni fa. Era una sequenza di piccoli laghetti in una valle separati da dei cordoni di terra emersa ed è proprio su queste rive secche, su questa parte asciutta, che degli antichissimi cacciatori si sono insediati, portando delle prede, delle carcasse raccolte nei dintorni. Le macellavano, e lo sappiamo perché qui sono stati trovati tantissimi strumenti, delle schegge di selci, e poi il resto lo buttavano nell'acqua. Tra l'altro nell'acqua non emergono gli odori e non ci sono predatori che vengono a curiosare. Questo sito ci dice molte cose su questi antichissimi italiani. Sentiamo in proposito il professor Carlo Peretto dell'Università di Ferrara, che qui ha lavorato ormai da quasi un quarto di secolo. Sì, questo di Isernia è un vero e proprio accampamento, un vero e proprio campo base, suddiviso in varie aree, nelle quali l'uomo svolgeva differenti attività. Da una parte lavorava la pietra, dall'altra la zona anche dove proprio si insediava e viveva normalmente. Un uomo quindi che aveva messo a punto una serie di strategie del tutto vincenti, nei riguardi di questo ambiente che poteva sembrare o potrebbe sembrare per noi in ospitale, ricco di acqua, di difficile approccio e di difficile accesso. Un uomo vincente che è diventato già in questa fase un superpredatore. In effetti era un uomo a tutti gli effetti, un uomo che è riuscito poi a continuare la propria attività, altrimenti non saremmo assolutamente qui a raccontare oggi questa storia.